Torna a parlare addirittura di lockdown il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto video messaggio social del venerdì. Due gli argomenti a supporto di un discorso piuttosto drammatico e sicuramente non in linea con l'attuale situazione epidemiologica nazionale. Nel contempo firma anche un'ordinanza che in controtendenza con quella che sarà recepita nel resto d'Italia da lunedì. Reitera l'obbligo di mascherina anche all'aperto su tutto il territorio regionale. Ma perché De Luca si è convinto a compiere questo passo e perché vede un orizzonte nefasto? Se prosegue così la vaccinazione a Napoli andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi. Dopo settembre tu una via social e aggiunge nel territorio dell'ASNapoli 1 tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose o anche per la prima si sono presentati un numero limitatissimo ad oggi per quanto riguarda l'ASNapoli 1 centro su 839.000 cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317.000 mancate adesioni spiega è un dato non sostenibile. Ma De Luca non basta e aggiunge avremo nel mese di luglio una riduzione pesantissima nelle consegne dei vaccini alle regioni. Le regioni saranno nelle condizioni di non poter quasi fare nessuna prima vaccinazione e dovranno concentrarsi sui richiami. Questa è la realtà vera che non viene comunicata agli italiani. E nonostante questo lancia l'appello. C'è la variante Delta che incombe. Ci sono altri paesi come la Gran Bretagna che hanno deciso di puntare sulle prime dosi di massa e dove i contagi stanno aumentando. Per questo il governatore De Luca invita tutti a vaccinarsi in massa e essere responsabili perché aggiunge il pericolo non è alle nostre spalle ma davanti alla nostra vita e a quella dei nostri figli.